oh e che cazzo avvasatemi quando stiamo in diretta mannaggia a tutti i santo dell'universo del paradiso e uno non si può riposare manco cinque minuti e che cazzo di è grandissimo immenso maestro di tutte le discipline mondiali e universali bravo bravo ci potrebbe dire qualche cosa di sid barrett io di sid barrett non posso tanto parlare perché me lo impediscono come hanno impedito a lui di cantare a me mi impediscono di parlare di lui la verità non deve venire fuori è una setta è quello stronzone di roger waters che se lo prendo gli spacco i polpa strelli delle mani così non può più suonare basso a parte che suona che fa schifo eh che ti ha già dicere che ti ha già dicere di sid barrett è un grandissimo è un grandissimo talento sid barrett si potrebbe scambiare solo eventualmente con un condizionatore nuovo